E ragazzi, io sono Callaria e oggi siamo ancora una volta in arena con un attelaggio un po' particolare Il bus ha fatto un giro davvero strappo Veloce a farlo leggiamo che la faccio in legno con una tuta scala, quindi stai a te, ragiona così Muoviti, muoviti, muoviti Metti il mattone e ci andiamo a mettere qua sopra Dove sta qua? Allora, se questo è quello, dobbò partire l'aggressività Hanno rebuttato Ma come? Sì, hanno rebuttato E sto fuori Dio Hanno fatto il parto Oh, a terra quello che ho rebuttato Finito Buono 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 Ho un sacco di roba Segnato, segnalo Trotti c***o mi che sto bar C***o mi che sto bar Buono 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 Ah mamma Oddio santo! Quali call Bart là sopra! Hitmarker! Tutti call Bart. No, Starna l'ha rimosso. Ehi! Basta tutti quanti! Il capas qua? Il capas qua! Il capas qua! Il capas qua! Oh shit! Vi ha avuto una benda? Si! Il capas qua! 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 No, mi sono chiuso da su. 151 sto qua sopra la squadra 35-35 e mazzo ne puoi smizzare ne ho 40 è avanzato 40 35-1 35-35 36-35 Ok, dove stanno le cazzo di qua? Sì, sì, scendiamo il video Figlio di p***o, oh Dio Mi ho 60 Cammina sopra sto qua Ho rotto lo shield, sta renegade di m***a Ok, finiti mazza, coltisci tu Ok, finiti, finiti Prato il razzo del c***o Io mi troppo Let's go Let's gooo, mamma mia Poi devo rimuovere il Bart Dupupupupupupupupupupupupupup È una vera che sbravisce e bruttissima, però Che hai detto? Il bar c'è una nuova grandissima bruttissima, vero? Lo so, cioè... Per questo è bella partita GG boys! Potessi che ne vedete un altro in questo video Perchè sono l'indigame? Probabilmente Ragazzi, partito numero 2 Vediamo come sforma se si vede là sopra la... Ci abbiamo sopra? Sì, ci abbiamo ancora sopra Ma non ti può fare cresci... Eccoli, ma come... Questa è la superman 76! 3, però 50, 1 Mi sembra il minimo per lì Perchè 200 di vita e dopo farai 3 Pasqua, 10D E' da, man Ce la possiamo anche aggampare qui? No, no, sta qua la sì Ah, credo... Cioè, che sta qua? No vabbè... Sì, le mie strutture non durano mai niente E' da qui E' da qui E' da qui Dio, qui è un po' più, più cubo Che male? C'era pure una meh C'era due, tra.. Uhhh No, ha finito le piene da tirare, sì Mi sta tirando un altro scitone Stai per diventare Super e per mega game Sì Mi piace che mi ha cantato Sì, c'è un tico Siamo a te Io sono andato già qua Basta E' per il luce E' anche il pezzo di m**** E' lui Anche qua ce la giambiamo C'è spazio qua? Sì Metteremo Scusami stai troppo attacchi Sembrano molto cattivi Sì Non riesco a metterti che il pezzo della giamba è stata solo lì Sì Non me l'ha piazzata Lo sapevo che sta succedendo qualcosa di brutto E' ovvio Altrimenti non stavo giù al d'accordo Sì 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 A terra uno Illumina Suck my penis dog Uno doppio prende tre blu Pasqua mi hai chiuso Pasqua mi hai chiuso Non volevo Tu volevi invece pezzo di me Sì 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 Nooo Just kidding bro Stavo registrando Stavo registrando Just kidding Però ragazzi il video finalmente è finito Sono due giorni che registriamo la seconda partita Se vi è piaciuto anche se vi è fatto cacare Live, commento e iscrizione Fa cacare Per l'effort Ci avevo messo due giorni per registrarlo Manco la Majors and Games Ci avevo messo così tanto tempo per registrarlo Bella ragazzi Ciao